Salve a tutti. Prima di iniziare il video, vorrei invitarvi a guardarlo fino alla fine, lasciare un like, iscrivervi a guardare gli altri video, magari quelli che riguardano sempre i testimoni di Geova. Questo video contiene informazioni riguardo le fallace logiche, sulle quali ho già fatto altri video, vi consiglio di guardare anche quelli per comprendere meglio. L'argomento di questo video è questo. Cosa avrebbero in comune i terrapiattisti e i testimoni di Geova? Mi sono già occupato del problema della Bibbia e della terra piatta in un altro video. I testimoni di Geova sono sicurissimi al 100% che secondo la Bibbia la terra sarebbe sferica e non piatta. Tenete presente questo elemento. Se provate a criticare l'organizzazione dei TDG è facile che loro vi vengano a dire che tutto ciò che è contro di loro è falso e deliberatamente inventato dal diavolo, o dagli apostati, e che Gesù lo aveva detto che le persone sarebbero state perseguitate a causa del suo nome. Dal punto di vista logico questo si chiama argumentum a dominem, di cui ho già parlato in molti altri video. Esso consiste nell'attaccare qualcuno al posto di dimostrare che le opinioni degli avversari sono sbagliate, e quindi, che le proprie invece sono quelle giuste. Ci sarebbero altre cose da obiettare a questa cosa. Innanzitutto Gesù disse che le persone sarebbero state perseguitate a causa del nome di Gesù e non nel nome di suo padre, e né tantomeno a causa di un nome inventato come Geova. Inoltre, in parte quelle parole di Gesù si erano già realizzate quando i Vangeli erano stati scritti. Perché erano già morti molti cristiani a causa delle persecuzioni, come Stefano, Pietro e Paolo, ad esempio. Queste persone erano testimoni di Geova? Loro direbbero di sì. Ma allora erano testimoni di Geova anche chi è morto a causa del nome di Cristo ed era nella chiesa cattolica, o in una chiesa protestante? Loro credono di essere i più perseguitati, ma non è vero, loro sono una minoranza e quando si bersagliano i cristiani quasi mai uno se la prende con i testimoni di Geova, ma con tutte le altre organizzazioni cristiane. Ad esempio, quando mai Al-Qaeda o Lisis hanno attaccato i testimoni di Geova? Giusto per fare degli esempi. Questo, dal punto di vista logico, si chiama fallacia dell'evidenza soppressa. Cioè vengono esclusi, o in buona fede o in cattiva fede, delle informazioni, e questo ovviamente porta a conclusioni sbagliate. Infatti loro quando parlano delle critiche fatte alla loro organizzazione in quanto estremista non hanno il coraggio di ammettere che magari sono stati banditi in Russia perché negano le trasfusioni di sangue o tolgono la libertà ai membri dell'organizzazione. Ma non è tanto questo di cui vi voglio parlare. Riguardo le menzogne contro chi segue Cristo, chi ci dice che non siano loro che dicono bugie contro i veri cristiani, cioè chi ci assicura qual è la vera religione e chi è il calonniatore? Questo è un argomento che merita un discorso a parte. Poiché i TDG hanno una serie di teorie sul perché loro sarebbero la vera religione. Per il momento mi limito a dire che dal punto di vista logico è una petizio principi, cioè danno per scontato che le loro idee siano giuste, e quindi i loro detrattori avrebbero torto. Quindi, se loro sono la vera religione, chi li critica è nel torto. Vorrei concentrarmi sul fatto che loro credono di essere nel vero perché sono perseguitati. Secondo il loro ragionamento, anche i terrapiattisti avrebbero ragione. Vi spiego meglio. I terrapiattisti vengono criticati da tutti i punti di vista. La scienza dice che la Terra è sferica, gli astronauti dicono che la Terra è sferica, e molti su internet si occupano di demolire le loro teorie. Ma non solo molti li prendono anche in giro, li insultano, anche pesantemente. Infatti i terrapiattisti credono di avere ragione perché tutti sono contro di loro. Questo è un errore logico basilare, molto grave ma frequente. Secondo il modus ponens, se A implica B, è vero, allora B è vero. E è falso però dire che se A implica B, B è vero, è vero. Cioè, dire che se piove mi bagno, non significa dire che se sono bagnato allora ha piovuto. Oppure, se l'indice è un dito, non tutte le dita sono indici. Con ciò voglio dire che secondo la logica, se tu dici la verità, e se la verità è scomoda, allora verrai perseguitato, ma non è detto che se viene perseguitato allora stai dicendo. Dicendo la verità. Non so se è chiaro. Infatti questo si presta a vari controisempi, come i terrapiattisti, anche essi vengano criticati per le loro idee. Ma hanno certamente torto, oppure i filosofi, che secondo i testimoni di Geova sono degli ingannatori, sono sempre stati perseguitati. Ma anche coloro che non credevano nella Bibbia e nella storia sono stati perseguitati. Se pensate che a seconda della storia sono stati perseguitati sia gli scienziati, come Galileo e Darwin, e sia i detrattori della scienza, come appunto terrapiattisti, creazionisti, eccetera. Si dovrebbe capire che non ha molto senso il ragionamento che fanno loro. Al giorno d'oggi anche i neonazisti, gli antisemiti, i razzisti, gli omofobo, quelli favorevoli alla pedofilia. A partire da Marco Pannella, credono di avere ragione e come prova di questo portano il fatto che il mondo è contro di loro. Questo è per farvi capire che non solo si può tentare di dimostrare tutto e il contrario di tutto con questo ragionamento fallace, ma è anche molto molto pericoloso. Infatti in psicologia sociale e in sociologia questo viene chiamato effetto underdog, cioè cane bastonato. In breve una tesi viene fatta passare per perseguitata, inizia a provare compassione per essa, come quando i cani cercano di farsi impietosire dopo essere stati rimproverati, quindi finisci per dare ragione. Con questa strategia adesso abbiamo il governo Lega e 5 Stelle, che hanno fatto credere agli italiotti di essere antisistema, mentre in realtà hanno solo detto delle follie. È questo grosso modo ciò che i terrapiattisti hanno in comune con i testimoni di Geova. Ma è ovvio che non possono avere ragione entrambi, evidentemente hanno torto entrambi, come vi ho mostrato infatti, le loro sono argomentazioni fallaci. Vi consiglio di studiare logica per capire se ho ragione o torto. Credo di essere stato chiaro. Per il momento è tutto, alla prossima!